L'Inter ce l'ha fatta, altra vittoria in Champions League, 7 punti in 3 partite, un gol annullato, un rigore secondo me sacrosanto e lo premetto perché sto leggendo anche troppe polemiche effettivamente per quello che poi è stato l'intervento su Frattesi, ma comunque quello che è importante è che l'Inter vince. L'Inter si porta a casa questa partita, si porta a casa 3 punti fondamentali e adesso intravede gli ottavi, ci sono ora 2 trasferte fondamentali in Austria e in Portogallo, però certo l'Inter comunque ha già dato una bella botta al girone, prima di parlarne però iscrivetevi, tanti like e tanti commenti qui sotto e lasciate anche un bel follow su Instagram e TikTok, link in bio. Detto ciò, allora, una partita giocata abbastanza bene, senza un grandissimo sforzo, però comunque l'Inter qual è il problema? L'Inter non capisco per quale motivo si vede che arriva stanca agli impegni europei o comunque arriva stanca appena dopo gli impegni europei, non regge nonostante due squadre di fatto perché di questo si tratta, nonostante due squadre non regge tre partite a settimana che per carità è da una parte anche giustificabile, però se vedo che altre squadre che hanno rose ben meno larghe e ampie lo fanno, dico perché l'Inter non lo può fare? Ecco, questo è l'interrogativo che vorrei porre ad Inzaghi perché comunque Inzaghi secondo me non fa un grandissimo utilizzo della rosa, considerata anche la profondità. Inzaghi è un ottimo, un ottimo allenatore, ma guardando chi ha in panchina lo usa anche troppo poco, cioè Inzaghi parte sempre o quasi sempre con gli stessi undici e magari poi fa qualche cambio, ma metti più spesso Carlos Augusto, ma metti più spesso Frattesi dall'inizio, ma metti più spesso Klassen, Klassen, ma metti anche Aslani. Ma comunque ecco, qualche volta, anche oggi per esempio Sanchez che fa gol, qualche volta c'è qualche rotazione, però anche poco, anche poco secondo me per quelle che sono poi le potenzialità della panchina dell'Inter. E comunque quindi oggi in virtù di questo era fondamentale vincere per risparmiare anche un po' di risorse e un po' di cambi alla fine. Si sono anche fatti, l'Inter l'ha fatti, però era importante vincere, anche perché parliamoci chiaro, finalista o non finalista di Champions, a prescindere dell'anno scorso intendo, perché comunque molti ora scaricano la responsabilità di una Champions, questa qua, da giocare ad alti livelli, perché l'Inter comunque è arrivata ad Istanbul l'anno scorso, per me conta poco, però vi ripeto, finalista o non finalista, l'Inter, avendo un girone da quasi Europa League, aveva e ha tuttora l'obbligo di passare come prima, non di passare così semplicemente, di passare come prima, come prima perché comunque è un girone tosto ma quasi da Europa League. Il Salisburgo è stato eliminato in Europa League l'anno scorso dalla Roma, fra l'altro, ai playoff. La Real Sociedad è stata eliminata dalla Roma agli ottavi. Il Benfica, per carità, è arrivato anche fino ai quarti di Champions, però è una squadra che è totalmente diversa da quella che superò agevolmente il girone della Juve un anno fa. Quindi comunque l'Inter deve passare come prima. Oggi fa una buona partita secondo me, giocano bene alcuni giocatori su cui voglio mettere un attimo l'accento, che sono De Vrij, nonostante, diciamo, una situazione poi abbastanza rocambolesca sul gol preso, che però secondo me poteva essere evitato, anche se è stato un bellissimo gol per carità, però come si è fatta fregare comunque la difesa dell'Inter, non è stato il massimo. Però De Vrij, Mkhitaryan, e a me anche prima del rigore stava piacendo molto Ceranoglu. Ecco, sono tre giocatori che, a parte che passano tantissimo in sordina, perché per questi tre l'Inter avrà speso, non lo so, tre milioni, neanche. Due a parametro zero e Mkhitaryan regalato. Eh, scusate, no, anzi, tre parametri zero se non sbaglio. Tre parametri zero, neanche la buona uscita per Mkhitaryan. La buona uscita arrivò per cieco se non sbaglio. Comunque ora non ha speso niente, niente o quasi niente. Ecco, sono tre colpi mirati che molti hanno criticato, perché mica io me lo ricordo quando andò via da Roma. Quanti lo criticarono perché era vecchio, perché era bollito, perché non serviva a niente. È un giocatore che veramente ti da, ti crea la superiorità. Clamoroso, letteralmente clamoroso. E anche oggi, nonostante non abbia fatto gol, o non abbia inciso direttamente comunque sui gol, ha fatto una grande partita. Ma questo per dirvi che comunque l'Inter è un'ottima squadra, che se sfrutta bene le rotazioni, e sono convinto che comunque Inzaghi ce la possa fare, anche se è forse l'aspetto sotto cui deve migliorare maggiormente. Ecco, se l'Inter sfrutta al meglio le sue enormi potenzialità, può tranquillamente competere simultaneamente, contemporaneamente, per lo Scudetto, anche se poi li va visto un attimo il discorso con la Juventus, per lo Scudetto e per la Champions. Non dico un'altra finale, ma l'Inter può arrivare avanti, parecchio avanti, perché la rosa c'è, perché la rosa c'è, senza alcun dubbio. E vi ripeto, ora, certo, se poi becchi il Bayern, o un'altra squadra che passa, caso strano seconda, un'altra big che passa seconda, e ti butta fuori, ci può stare. Ma diciamo, in teoria, facendo una stima molto così pesata alla buona, l'Inter può arrivare tranquillamente fino ai quarti, tranquillamente. E dai quarti in poi, un po' di fortuna in qualcosa, è un attimo ad arrivare in finale. È veramente un attimo. E con questo, passo e chiudo, iscrivetevi, lasciate tanti like e tanti commenti qui sotto, e seguitemi anche sugli altri due social che utilizzo, vale a dire, e già ve l'ho detto, Instagram e TikTok. Link in descrizione. Ciao! Ciao! Ciao!